Eder, Mech, Pallister. Oltre a cose peggiori per stare male, poi io ti conosco, quindi so che cosa è passato. Mi sono un po' emozionata quando ho letto il messaggio, però niente di grave. Come stai tu? C'ho sempre mal di testa allucinanti, alla sera. Vabbè, penso quello che abbiamo un po' tutti. Nel senso, anche tu l'avrai passato, quindi mi puoi capire. No, per esempio, ma giù sfornata trittosto con la salsa guacamole e una mozzarella. No, chissà che altro mi mangio. Ma tu guarda che piede. E infatti mi fa paura. Che poi il padre è alto 1,80, io 1,66. Niente di che, chissà. Speriamo che non sia un maialino. Quando hai la scadenza? 5 agosto. Manca ancora un po'. Mare, tutto ok? No, tranquillo, sto passando niente che non stiano passando magari anche altri milioni di abitanti della terra. C'ho sempre mal di testa allucinanti, alla sera. Vabbè, penso quello che abbiamo un po' tutti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale. La storia è che, per quel caso miкамero è la casa della terra. Ehi, non dimenticare di risposta. Mi testa è questa? Ehi. Ehi, non dimenticare di risposta. È. Ehi, non dimenticare di risposta. Ehi, non dimenticare di risposta. È.